L'incanto della campagna emiliana, il fascino di una struttura che combina dettagli passati e presenti e un servizio esclusivo e personalizzato, rendono il Palazzo di Varignana Resort & Spa il luogo in cui vivere un matrimonio diverso dal solito. Circondato da giardini, parte del celebre network Grandi Giardini Italiani, il Palazzo di Varignana potrà accogliervi durante la bella stagione nel verde prato che circonda la struttura, permettendovi di vivere l'evento circondati dalla natura, nei pressi di una fantastica piscina. La sala Belvedere, posta a piano terra, sarà lo spazio perfetto per allestire il banchetto e accogliere i vostri ospiti in ogni periodo dell'anno, in un ambiente confortevole dove potrà accomodarsi un gran numero di persone. Il pavillon, con i suoi tendaggi eleganti, invece, sarà lo spazio magico in cui scambiarvi le vostre promesse d'amore e vivere una romantica cerimonia di nozze. Lo staff della struttura vi assisterà con cortesia, dedizione e professionalità nell'organizzazione dell'evento, consigliandovi le migliori soluzioni per gli allestimenti e l'intrattenimento degli sposi. Il palazzo di Varignana Resort & Spa, che ospita al suo interno due ristoranti, vi offrirà la possibilità di scegliere il menù che meglio rispecchia i vostri gusti e le necessità dei vostri ospiti, assicurandovi un banchetto dalla cucina prelibata e basata sulla freschezza e qualità dei prodotti. Per la vostra prima notte di nozze o per il pernottamento dei vostri cari, potrete inoltre usufruire delle confortevoli e raffinate camere da letto e suite del palazzo di Varignana, che vanta anche una rilassante area benessere.